Con un voto a maggioranza il Consiglio regionale ha approvato nel corso dell'ultima seduta il bilancio consolidato per l'anno 2022 della regione toscana. Un atto importante ha spiegato il consigliere Andrea Pieroni illustrando in aula i provvedimenti che riguarda la regione e gli enti e le società controllate o partecipate, uno strumento utile per la programmazione. Il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 evidenzia un risultato economico di 26 milioni e 732 mila euro. Ad eccezione di Fili Toscana, Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche e Autorità Portuale Regionale, tutti gli enti hanno chiuso l'esercizio inutile. Su fronte degli investimenti questi ammontano a 1,31 miliardi. Il patrimonio netto si chiude con un negativo di circa 800 milioni. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della regione toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva, capo all'ente regione, è un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente regione toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in indeciso aumento e qui sta anche un'attività forte che la regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della regione che è sotto controllo. L'atto passa come detto a maggioranza. 19 voti favorevoli, PD e Italia Viva, 11 contrari, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento 5 Stelle. C'è un risultato formalmente positivo ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate. Vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le termine di Montecatini di cui la regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni. Vedi Firenze e Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X l'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Peci a cui la regione toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro perché la gestione complessiva segna un segno meno, negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Nella compagine di governo Italia Viva sottolinea lo sforzo che ha permesso di non aumentare la pressione fiscale. Avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva non aumentare l'addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo ma serviva a dare dei servizi maggiori più efficienti in termini qualitativi e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso e aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati a Toscana e è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Cechi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana appunto che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale. C'è tempo fino al prossimo 31 ottobre per partecipare al premio La Toscana che fa bene bandito dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Al bando possono partecipare soggetti giuridici pubblici e privati con sede in Toscana che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 2022 o 2023. Il primo premio sarà di 5.000 euro. Anche la seconda edizione vede la preziosa collaborazione del CESVOT. Sì, noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee e certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Il bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e sui siti internet del Corecom e del Consiglio regionale. Alla presentazione il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva. Sì, un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale, quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e CESVOT per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. Nel 1983 Giacomo Maccheroni fu nominato Presidente dell'Assise Toscana. La delibera originale del Consiglio è stata consegnata a 40 anni di distanza in Comune a Ponte d'Era, un momento significativo per la città e per Maccheroni, adesso 87enne, che raccomanda alla politica una via in particolare. Di tenere conto i rapporti con le scuole perché io alla fine imparai che quando andavo in un comune per inaugurare un'opera pubblica, fognature, scuole, dicevo però al sindaco però io voglio visitare anche una scuola e il rapporto con le scuole io lo raccomando perché le scuole vuol dire rapporto con i genitori e vuol dire una scuola partecipata. Un gesto, un riconoscimento verso chi ha dato tanto al territorio. Una storia, una storia fatta di radici, una comunità che continua a guardare avanti partendo da quello che è stato, dall'impegno politico rivolto ai più giovani, rivolto alle comunità sempre pronto all'ascolto. È stato questo l'impegno di Giacomo Maccheroni come Presidente del Consiglio regionale della Toscana e ha voluto oggi consegnargli la delibera della sua elezione che serva come ricordo ma anche come modo per guardare avanti. Penso che il gesto stamani che ha fatto il Presidente del Consiglio Antonio Mazzio sia un riconoscimento vero a chi in questi anni ha dedicato passione, tempo e la forza alla politica, politica della democrazia, dei diritti e dei valori che tutti noi ogni giorno ci ispiriamo. Da oggi al 2050 ci sono 27 anni, sembra un tempo così lontano ma è un tempo molto vicino, è il tempo in cui va costruito il futuro. O la politica o le istituzioni hanno la capacità di fare le scelte nella direzione che anticipino il cambiamento, il progresso e lo guidino oppure non svolgono la loro funzione sociale. Ecco perché siamo qui, oggi lavoriamo a questo progetto per cercare di offrire ai nostri figli che saranno i protagonisti del 2050 un futuro migliore. Così il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzio aprendo a Pisa all'interno dell'Internet Festival Iniziativa Toscana 2050, i futuri desiderabili. Una giornata con l'obiettivo di stimolare una riflessione sull'immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale. Si tratta di muoversi in due modi, un modo è prevedere il futuro prevedibile, cioè che vi saranno evoluzioni come si dice incrementali, ma la sfida vera è prevedere il futuro imprevedibile che è quello che per esempio può derivare da scoperte fondamentali che noi in Toscana possiamo seguire perché in Toscana fortunatamente abbiamo quello che poi conta, cioè il patrimonio umano straordinario perché abbiamo università di eccellenza, abbiamo un mucchio di studenti che fra l'altro vengono da tutta Italia e anche a tutto il mondo e che sono il vero motore di quello che è l'innovazione. Poi naturalmente ci sono gli amministratori, cioè ci sono i cittadini che hanno il ruolo di realizzare magari alcune delle cose realizzabili, guidare il progresso anche nella direzione in cui si vuole andare. Evidentemente l'ambizione di questo progetto è quella di creare le traiettorie affinché in un lasso di tempo ragionevole si possa focalizzare l'attività economica ma anche quella diciamo delle istituzioni su un luogo che possa consentire benessere diffuso perché è questo l'interesse della comunità toscana ovvero quella di avere la possibilità di creare ricchezza e di distribuirla in una logica sostenibile. Diversi gli interventi che si sono succeduti all'interno del convento delle ex benedettine, tra queste il rettore dell'università di Pisa. I giovani servono a progettare il futuro ma dobbiamo investire seriamente sul loro futuro. Come penso sarà uno dei temi del dibattito la prima cosa è tenerli giovani oltre a averli formati. Uno dei temi sarà probabilmente la fuga dei cervelli e questo è un impegno che stiamo svolgendo a vari livelli. È un problema che va incastonato in un contesto più ampio. Se vogliamo essere onesti al di là delle questioni della possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, delle cordate, dei bias vari, la ragione prima della fuga dei cervelli purtroppo è puramente economica. Gli stipendi per un laureato, per un giovane ricercatore ma senza andare negli Stati Uniti, nei paesi confinanti con noi sono due, tre, quattro volte superiori e quelli italiani. Si corregge per il costo della vita sono pure superiori. Come facciamo a tenere questi studenti e questi ricercatori? Non ce la possiamo fare da soli, ci vuole il contributo delle istituzioni, ci vuole il contributo dello Stato. Quello che possiamo fare noi è uno contare sul clima, sulla cucina italiana e questo effettivamente non è competitivo. Contare sugli affetti familiari, molti di quelli che restano sono per motivi di affetto e poi farli lavorare. Questo sì, questo aspetta a noi e questo è il nostro impegno. Sugli stipendi non siamo competitivi per ora e non so quanto riusciremo ad essere competitivi in futuro. Tra gli interventi quello dello chef Cristiano Ottomei a cui è stato chiesto come immagina il cibo sulla tavola nel 2050. Che cosa mangeremo nel 2050? Io penso che nel 2050 mangeremo quello che abbiamo capito che va mangiato, cioè quello che ci dà la natura, le opportunità, la consapevolezza secondo me sarà la situazione del domani. Basta di parlare di sostenibilità, la sostenibilità bla 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 bla. Bisogna essere consapevoli e parlare non del territorio ma della territorialità, quindi di una sovrapposizione socioculturale che a volte è anche di millenni e questo è fondamentale. E il rispetto di quello che c'è nella territorialità, cioè gli allevatori, i casari, i pescatori, i cuochi, le massaie, tutti. E quello mangeremo nel 2050 per esempio i pomodori non messi in frigorifero e neanche frullati. Oppure mangeremo invece che del branzino dei bei rombi gialli che qua sono molto comuni vicino nel nostro mare. Cioè mangeremo quello che la natura ci propone, nonostante i problemi che abbiamo provocato alla natura, la natura è ancora benevola con noi e bisogna comprenderla. Non in maniera complicata, ma approcciare con semplicità nel quotidiano. Cioè il grancho blu lo mettiamo in tutte le menze scolastiche d'Italia, lo mettiamo in tutte le menze aziendali d'Italia, negli ospedali e questo è il modo consapevole di risolvere secondo me i problemi dell'alimentazione che comunque nel futuro saranno sempre più importanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.